Abruzzo Engineering sembra andare verso il pareggio di bilancio, dopo anni difficili per questa società riassorbita poi dalla regione Abruzzo, sembra ormai in discesa la via dell'assestamento dei posti di lavoro. Con una perdita ridotta al 20% rispetto a quella del 2014, l'Assemblea dei Socii di Abruzzo Engineering ha approvato l'esercizio 2015, che coincide con l'anno di riavvio delle attività della società in house della regione Abruzzo. Le perdite registrate nell'anno 2015 sono pari a 200.000 euro a fronte di 1.100.000 euro di perdita dell'esercizio 2014. Nel corso dell'Assemblea è stato esaminato anche l'andamento economico del primo semestre 2016, che segnala per Abruzzo Engineering uno stato di equilibrio economico. L'Assemblea dei Socii ha auspicato una rapida conclusione dell'iter legislativo che ha per oggetto la norma di patrimonializzazione della società. È stato così approvato anche l'atto di indirizzo per definire la priorità dei pagamenti che vede quale obiettivo prioritario quello del saldo di tutti gli stipendi fino al mese di luglio con la massima sollecitudine. Dal mese di agosto in poi sarà assicurata la regolarità dei pagamenti e dei versamenti delle imposte e dei contributi. L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del nuovo collegio sindacale e il revisore unico contabile, prevedendo anche una retribuzione ridotta del 70% rispetto a quella percepita dai precedenti componenti.